Buongiorno, io ringrazio molto per l'opportunità che ho di poter condividere qualche informazione sul Brasile, in particolare sulle elezioni amministrative municipali che si sono svolte il 6 ottobre. Il 6 ottobre dunque si è svolto il primo turno delle elezioni amministrative in Brasile e i risultati hanno restituito un primo quadro complessivo politico della federazione, un quadro che si completerà il 27 ottobre con il secondo turno delle elezioni amministrative che prevedono delle consultazioni per ballottaggio per i sindaci di 52 municipi, fra i quali 15 delle 26 capitali federali degli stati. I consigli comunali invece sono già stati eletti e sono quindi definitivi. Cercando di riassumere e raggruppare per grandi categorie, si può dire che lo schieramento di centro-destra, denominato Centrão, grande centro, esce con una forza notevole governando molti municipi. In particolare il partito che ha avuto il maggiore consenso è il partito socialdemocratico che governa già 870 municipi con 28 milioni di abitanti, tenendo conto che i municipi in totale in Brasile sono circa 5.500. A questo si aggiunge sempre nel, diciamo, quando si parla di partiti dobbiamo sempre tenere presente che si tratta di aggregazioni di notabili. Non siamo lontani dai partiti di massa, da partiti radicati nel territorio. Sono fondamentalmente, con poche eccezioni, di alcuni partiti di sinistra, di coordinamenti di notabili. Allora, al Partito Socialdemocratico si affianca e si commenta in parte il partito del MDB, del Movimento Democratico brasiliano, e queste sono le due principali forze di centro, il PSD più o meno di centro-destra. La terza forza importante è il Partito Liberale, che è l'area più legata a Bolsonaro e al bolsonarismo, che anch'esso ha avuto un consenso discreto. L'area di sinistra, dunque, delle forze politiche è minoritaria, a grande distanza da questi numeri, ma non è in decadenza. E' quindi un quadro severo, per quanto concerne, diciamo così, le ipotesi di cambiamento, di rinnovamento, è un quadro severo in cui, diciamo, l'elemento che mi sembra particolarmente importante e positivo è l'indebolimento della destra estrema. E in particolare il non successo di candidati e forze simboliche dell'area bolsonarista. È difficile comunicare che cosa è stato di ampiamente disarticolante il quadriegno del governo bolsonarista, che ha minato fortemente, diciamo, i pilastri dello Stato e della Costituzione. Allora, in questo contesto, che non è particolarmente positivo per l'idea di un paese che deve rafforzare le proprie caratteristiche democratiche, molto importante è stata la vittoria al primo turno del candidato sindaco uscente di Rio de Janeiro, Edoardo Paes, che è stato eletto al primo turno con un grosso margine, tenendo conto che Rio de Janeiro è una città complicatissima, è la base della famiglia Bolsonaro, ma soprattutto è fortemente minata, Rio, dalle milizie da un lato e dalla criminalità organizzata dall'altro. Sono due poli della disgregazione sociale molto potenti. Nel bene e nel male, ruolo fondamentale in Brasile ha lo Stato di San Paolo e la sua capitale, la sua enorme metropoli. In questa metropoli ci sarà un ballottaggio il 27 di ottobre fra due visioni, due proposte completamente divergenti, una sociale includente, l'altra neoliberista e discriminatoria e il risultato che si avrà in questa capitale ha una conseguenza che va al di là del luogo e della situazione specifica. Quindi insomma, grosso modo il quadro è in queste macro categorie. alcuni elementi preoccupanti che richiedono riflessione e che poi non riguardano solo il Brasile, perché queste situazioni sono onde vaste, ci sono alcuni elementi preoccupanti. Da un lato un discreto astensionismo che ha raggiunto il 21%, noi siamo abituati agli Stati Uniti e all'Italia dove l'astensionismo è ben maggiore, però bisogna tener conto che qui il voto, io dico per fortuna, è obbligatorio. E quindi il 21% di non votanti di astensione è molto. L'altro punto che d'essa preoccupazione, che anche questo non è solo brasiliano, è l'estrema difficoltà di riuscire a fissare l'attenzione dei candidati e degli elettori su dei temi reali, concreti. Le elezioni amministrative locali parlano di cose, di cose pratiche, concrete. Tutto questo è molto difficile da fissare, mentre i discorsi vagano nel generico. L'altro punto che d'essa preoccupazione è l'influenza infinita delle reti sociali percite di fake news e di parole d'ordine urlate che hanno avuto un peso e un eco enorme, tenendo conto che a partire dall'inizio di settembre X, la rete di Musk, è stata sospesa. Quindi pur senza avere questa rete, particolarmente questa rete sociale, particolarmente aggressiva e mendace, eppure le reti sociali hanno svolto un ruolo di depistaggio notevole. L'altra cosa che qui d'essa preoccupazione, che non riguarda invece situazioni come la nostra e l'Italia, è l'influenza enorme che continuano ad avere le megachiese neopentecostali che si attribuiscono un ruolo e un compito politico che non è assolutamente di loro competenza. Un altro punto che volevo mettere un momento in luce è come è difficile capire i meccanismi di consenso in alcuni casi. Come avviene il consenso? Come avviene? Su che cosa si basa? Faccio due esempi. La città di Porto Alegre, nello stato di Rio Grande do Sul, a maggio è stata sommersa per oltre un mese da un'enorme allusione, enorme inondazione. Causa di questa inondazione è stato in specifico il fatto che le idrovore che dovrebbero proteggere la città erano non funzionanti per mancata manutenzione e questa mancata manutenzione era responsabilità diretta dell'amministrazione municipale e quindi dal sindaco. Orbene, in questo contesto materiale, brutale, il sindaco quasi si è rieletto a primo turno. Com'è che avviene questo consenso per qualcuno che ti ha messo sott'acqua? È una domanda a cui è difficile rispondere. Nella città di San Paolo c'è stato un altro caso strano di consenso. È emerso al momento delle candidature una candidatura imprevista di un ignoto e sconosciuto cittadino di nome Pablo Marsal. Non aveva mai fatto politica, non aveva un partito con qualche consistenza alle spalle. Nel giro di poche settimane questo Pablo Marsal, individuo impressionante, una specie di Milei, una tipologia di quel tipo, cioè urla, discorsi senza consistenza e privi di realismo, ha avuto anche lui il 28% di voti. Come succede una situazione del genere? Come la politica passa attraverso questi meandri? È difficile capire ed è preoccupante che soggetti non adatti alla società civile, come questo Marsal, o come parecchi dei consiglieri comunali eletti, solo attraverso le urla delle reti sociali, possono arrivare a competere nella competizione politica. Questo è un problema ovviamente non solo del Brasile, basta vedere cosa sta succedendo negli Stati Uniti e ci si può preoccupare di molte cose. Allora, perché le cose sono andate in questo modo? Che non è un modo pessimo, nel senso che siamo nell'ambito di una situazione normale, rispettosa nelle grandi linee delle regole democratiche, spostata sulla destra, non siamo in una situazione avversiva come è stata nel 2018. Ci sono due fattori, uno è un fattore generale, cioè anni e anni di attività e propaganda dell'antipolitica, questo porta dei frutti, porta dei frutti a svalutare la politica e a dare spazio a forme rappresentative difficili da definire. E questo è uno. E poi, questo è un aspetto che si associa con questo cambiamento culturale di fondo, per cui all'idea di, che per tanto tempo ha accompagnato molte realtà, nei molti paesi, di progresso, di inclusione, di andare avanti, di migliorare, si è sostituito invece delle idee di individualiste molto forti, di odio verso un nemico reale o immaginato, che dà stoffa e respiro alla cultura delle destre, che avanza con molta forza. qui, in generale, in diversi paesi di America Latina e molto, molto in Europa. Ma c'è un punto specifico che ha aiutato questo successo, diciamo, dell'area del Centrao, del grande e vasto centro, che vorrei esprimere attraverso le parole di un'attenta giornalista che si chiama Teresa Cruginell, la quale dice una volta di più, e questo una volta di più è importante, cioè il ripetersi di meccanismi antichi che si rinnovano e si mantengono, i partiti appoggiatori pragmatici, che tradotto in linguaggio corrente vuol dire opportunisti, del governo Lula, che escono rafforzati, si sono avvarsi di risorse pubbliche attraverso emendamenti di bilanci per errorare le basi elettorali e riprodurre il comando locale eleggendo sindaci dei loro partiti che li aiuteranno a rieleggersi nel 2026. Questo l'ingranaggio che è alle spalle dei risultati di oggi. Ecco, cosa vuol dire questo? Qui c'è un meccanismo molto particolare in Brasile e che si è molto deteriorato negli anni recenti, degenerato negli anni recenti. Esistono delle possibilità, il Parlamento ha la possibilità di emanare degli emendamenti di bilancio che sono degli storni del bilancio federale che vengono destinati a singoli deputati o a determinati partiti per poterli investire nei loro collegi. È una cosa che avviene anche in altri, non in questa forma, ma i parlamentari hanno la possibilità di promuovere iniziative che riguardano i loro collegi. Ma soprattutto nel governo Bolsonaro e ancora nel 2023, la quantità di questi emendamenti di bilancio ha raggiunto dei livelli altissimi nel 2023 e soprattutto sono state sospese quelle indicazioni che prevedevano che questi emendamenti servissero per determinate attività e opere da controllare. Quindi si è aperto uno spazio enorme per iniziative fuori controllo e di grande peso. Com'è stato possibile questo? È stato possibile questo, che è chiaramente un fenomeno e un processo di degenerazione, perché il Parlamento, che è uscito dalle elezioni del 2000, alle ultime elezioni parlamentarie del 2021, è quello più spostato a destra di tutta la storia recente del Brasile, che quindi ha votato queste disposizioni. Si è quindi, allora questa enorme quantità di soldi che viene dai parlamentari nelle amministrazioni locali, nelle gestioni locali, offre uno strumento di pressione politica di compra e di acquisto di voti molto potente. E questo ping pong fra interessi locali e proiezioni federali e viceversa, che caratterizza la vita politica certamente di tutta la Repubblica e quindi dalla fine dell'Ottocento, impedisce di fatto, se ci siano momenti di rottura, di cambiamento, che sono assolutamente necessari per costruire una società rigenerata. Anche questo ping pong fra amministrazioni locali e centro, che qui ha una consistenza opprimente, non è una caratteristica solo di questo Paese. ecco, queste sono alcune incomplete considerazioni su come sono andate le elezioni amministrative che si sono svolte in modo sereno, che sfortunatamente non hanno avuto, non hanno offerto la possibilità di discutere degli infiniti problemi concreti che ci sono in ogni luogo, ma che insomma sono andate in un modo molto accettabile.